Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Adesso siamo rimasti qui ad abbattere il boss Maximilian Pegasus Allora, adesso proviamo ad abbattarlo Allora, ho portato qualche piccola modifica sul mio deck Ma niente di speciale Ho aggiunto qualche mostro di livello 4 con 1.006 di attacco No, 1.008 se non sbaglio O 1.007, 1.007, si Allora, qua per batterlo, visto che è il finale, sono 3 round da batterlo Quindi, se riesco a farlo difficile in un colpo, meglio per me Se no, tutto di nuovo, tutto da capo Guardiamo che carta mi sono uscita Bello Nooo Diciamo così Attivo questo gattino Basta Ok Subito te schiocato Va bene Avrà forza riflesso in queste carte E' tipo a lì E' tipo a lìa E' tipo a lìa Non c'è quello che c'è Si Si E' tipo a la lìa E' tipo a lìa E' tipo la lìa E poi ma questo mi servirà sicuro lo prenderò ecco la carta speciale tutti i mostri di odello seo superiore ed evocati specialmente sottolinei non possono dichiarare un attacco e attivare i loro effetti ok quello va benissimo quindi odello seo non può attaccare giustissimo eh però io come faccio a attaccare lì intanto mi preparo per la difesa ok 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 allora facciamo così scopriamo questa carta ok 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 facciamo la singolarizzazione numero 44 Pegaso del cielo perfetto ok 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 ... Capura! Spero che non ci sia forse riflesso sotto alcune carte coperte, che sicuramente ci sarà. Vediamo, beh, ti pareva. Ehi, ahi. Ok. Focusti animati. Allora, tra difesa, ok per adesso mi posso difendere Allora cos'è questa? Se c'è una carta metterà trappos, perdono Posso distrutire questa oppure? Sì, questa qua C'è una padella, ok, come va dentro Ah, che figa C'è una padella Sì, allora se tutto andrà bene quando mi attaccherai attivo questa carta così prenderò il pinguino Oh, ma poi cosa succede? Oh, dai a qua Ah ma lo posso già attaccare qua Oh, sì, posso attaccare benissimo Ok, fu uno Eh, no, no, non vedrai che sia la forza di flessi No, non vedrai No, non vedrai No, non vedrai Penso che questa battaglia finisce qua Ok ragazzi, cremo un rado di contro Pegasus Sono riuscito a vincere Niente, mi fermo qui E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao